5, 4, 3, 2, 1 andiamo, 50 stai destro, sfiora a sinistra, 4 più più vai subito al centro destro vai, 150 molta attenzione al buco destro, stacca, a rail sinistra, 3 meno 20, tarda poco destra, 2 gira bene l'uscita eh, fluido, 30 stai sinistro al cartello destra, 4 meno sfiora, 20 stai sinistro sfiora a destra, 4 più vai, 50 credici qua su eh, acceno sinistro, 30 e molta attenzione al muro sinistra, 2 meno gira bravo via sull'uscita eh, acceno destro lungo sfiora in posta sinistra, 4 lunga, tieni, vai deciso 30 e attento a fine rail destra, 3 meno scivola 3 meno scivola, subito, tarda poco, attento sinistra, 2 falla bene eh, 20 stai sinistro, tarda poco destra, 2 gira anche qui via l'uscita eh, acceno sinistro lungo, 50 stai destro, al cartello, attento sinistra, 2 gira via decisi, 30 stai sinistro, acceno destro, è importante questo eh acceno destro diventa 2 meno meno gira, vi subito acceno sinistro, 30 stai destro, alla casa sinistra, 4 meno no paura si arriva alla chiesa eh, 30 stai sinistro, anticipa a destra, 4 più vai 40, attento sinistra, 4 meno lunga, sconnesso a fine inizia lo sconnesso qua eh, destra 4, chiude 3 sconnessa chiude 3, qua, in sinistra 3 sconnessa, in acceno destro, al muro chiude 3 sconnessa, qui subito sinistra 2 più sconnessa, non forzare tranquillo, apre 6 vai sfiora, cose semplici, in acceno destro chiude 4 meno, 120 a vista, al cartello, attento sinistra 3 meno bene questo scambio eh, in destra 3 più, chiude 3, subito, molta attenzione sinistra, 1 a mano, falla pulita eh, apre 5, da qui inizia la discesa, accenna destro, al palo destra 3 scibola, 3 scibola, subito sinistra 4, 2 tempi, sfiora il secondo, 30 a vista, sfiora sinistra 4 vai 20, molta attenzione, frena, destra 3, scibola, eccola qua, subito anticipa sinistra, 4 meno vai, 50, stai destro, acceno sinistro, 13, 40, frena al cambio asfalto, destra 3 più, eccola qui, in destra 3, subito acceno sinistro e destra vai, 20, destra frena, attento sinistra 3, c'è la frana eh, stai sinistro destra 4 più, 50, stai destro, a rail, molta attenzione, 4 diventa 3 meno, eccola qui è bene questa eh, 4 meno lunga, diventa 1 mano, bene la linea eh, aspetta alla fine un fondo, ora aiuta, ecco, dai, concentrato, 4, chiude 4 meno, sfiora, attento destra 3 sfiora vai, eccola qui, 50 stai sinistro, sono misti eh, anticipa destra 4 meno, no paura 80 stai sinistro, si arriva a quella brutta eh, attento sinistra 2 più, scorri, eccola qui, in marcia, destra 4, chiude 3, bene la chiusura eh, veloce falla eh, sinistra 3 sfiora, in destra 4 meno sfiora, in cartello sinistra 3, è quella del fine prova eh, apre 95, 100 sul fine, ti dai giù fino a fondo eh, attento sinistra, trovo nemmeno schicola, boh. Ka**o, che strunzata che ho fatto, c**o, c**o, che struzzata che ho fatto, c**o, 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!